Val, non avevo idea! Val, non avevo... Pensi davvero di poter chiedere a quella troia della figlia di Lucifero di combattere le tue battaglie? Val, ti prego, mi dispiace! L'hai portata qui per proteggerti, per fordere me? Fermati! Pensi che potrei licenziarti? No, no, non è quello che stavo cercando di fare, no! No! Tu sai che non puoi fare nulla. Io ti possiedo. O l'hai dimenticato? No. Quando dico vieni, tu dici? Sì, Valentino. Quando dico scopati venti tizi prima di pranzo, tu dici? Sì, Valentino. Quando dico sbatti fuori quella stronza fuori dal mio studio, tu dici? E... io... Tu dici? Ascolta, Val. Lei... Trova emozionante ogni cosa. Le... le dirò di andarsene. Ma non farle, ed è male... Ho ucciso troie per molto meno di questo tuo atteggiamento. Sei fortunato che mi frutti soldi. Adesso ti sbarazzerai di lei e poi girerai per tutta la notte. Capito? Sì, Val. Bene. Sì, è male. Sì, è male.